Salve a tutti, in questo video vediamo come vedere il consumo elettrico dei nostri processi su Windows 10. È una funzione che è stata aggiunta da due anni circa, ma pochi se ne rendono conto perché bisogna espandere una sezione del Task Manager. Vediamo come fare. Allora, tasto destro qua sulla barra, gestione attività, ed entriamo nel Task Manager. A questo punto espandete la barra dei processi. Non ricordo se anche nella visualizzazione semplice si vede. Vediamo, meno dettagli. Ok, allora, se avete questa sezione, più dettagli. Ok. Quando avete questa barra sappiate che c'è altro qua a destra, quindi prendete ed espandete questa sezione con il tasto sinistro fino alla fine. Ed eccolo qua. Consumo elettrico. Purtroppo non ci sono i valori ben precisi, chissà se un giorno Microsoft deciderà di mostrarli. Comunque per ora possiamo vedere il consumo elettrico in molto basso, basso, moderato, alto. Suppongo ci sia anche molto alto, non lo so. Comunque, ecco qua. Quindi in questo momento il programma che sto usando per registrare lo schermo ha un consumo basso, mentre qua tutto il resto è su molto basso, il che è sicuramente ottimo. Niente, quindi può essere utile sapere... Eccolo, molto alto. Microsoft Office per un attimo è venuto fuori. Quindi può essere utile sapere che c'è questa sezione con il consumo elettrico dei processi di Windows 10. Un saluto a tutti. Eccolo, è così. Al prossimo.